L'esperienza in questo periodo di presidenza dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze si è risolta in una riflessione rispetto a una crisi globale che non ha pari dalla rivoluzione francese in poi e che è una crisi a maggior ragione del nostro paese dove c'è una caduta sostanzialmente di valori, di condivisione, di obiettivi e quindi dove è necessario una nuova ripresa che non è soltanto economica ma anche una ripresa civile e sociale legata ai valori. Questo è il tipo di indirizzo che abbiamo cercato di dare insieme a tutti gli organi dell'ente, insieme al personale dell'ente che ha condiviso con grande entusiasmo questo obiettivo. Credo che sulla base di questo l'ente si dovrebbe trasformare in qualcosa di diverso da un banco, ma come qualcuno lo percepisce, cioè laddove c'è bisogno di risorse che naturalmente sono anche necessarie, ma più che altro un luogo dove si discutono, si elaborano delle idee e si fanno delle proposte per il futuro. Mi auguro che questa linea possa continuare.